In occasione di una conferenza stampa tenutasi lo scorso fine settimana, i gruppi consigliari di centrodestra di Pesaro hanno espresso la necessità di un cambiamento all'interno dell'amministrazione e un primo cittadino più presente e attento ai reali problemi del territorio. Non sono mancate le critiche per quanto riguarda il ripristino di opere pesaresi ormai da tempo in disuso e per questo la paura di arrivare ad un 2024 impreparati. Allo stesso modo non si è fatta nessuna preclusione al prossimo candidato sindaco di centrodestra che potrebbe arrivare sia dall'interno sia dall'esterno del mondo partitico. Noi riteniamo che questa città sia vittima della propaganda che è stata fatta in questi anni che non corrisponde alla realtà della situazione attuale. Abbiamo una città piena di incompiute o chiamiamole mai partite o ferma al palo come nel caso delle opere infrastrutturali dell'autostrada nelle quali siamo in forte ritardo, una città nella quale non siamo riusciti a portare in tanti in otto anni a compimento i lavori del palazzetto dello sport dove l'ex tribunale è fermo o dove sono stati fatti degli sprechi per dei progetti che non corrispondono all'esigenza di quella che è la realtà come nel caso dei 150 mila euro spesi per la progettazione della Rambla. Una città dove c'è un forte degrado in come emerge anche proprio le polemiche di queste settimane nel suo centro storico che forse è vittima della decrescita felice che è stata imposta da una giunta PD 5 Stelle. Quindi una città che ha bisogno di dare una svolta, un cambio di passo vero a tutto quello che rappresenta un nodo per creare le condizioni di sviluppo socio-economico di un intero territorio. Oggi siamo qua nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro tutti insieme, sono rappresentati tutti i partiti della coalizione di governo che attualmente governa la nazione, ci sono i gruppi consigliari, ci sono tanti esponenti del mondo civico, ci sono rappresentanti del mondo dei quartieri perché ormai dall'inizio della legislatura riusciamo anche ad essere presenti sui quartieri con i nostri consiglieri di quartiere e siamo qua con lo scopo di lanciare un messaggio. Oggi finalmente siamo in grado di raccontare quello che stiamo facendo già da qualche anno e cioè iniziamo a dirlo, facciamo una campagna di ascolto, iniziamo a parlare con le persone per cercare di raccogliere le migliori proposte possibili per trasformare queste proposte in una proposta di governo. Noi vogliamo essere pronti nel 2024, essere credibili, esserci e riuscire a rappresentare quante più persone possibili. Quindi oggi il messaggio è una grande coalizione perché siamo davvero tanti pronti a diventare ancora di più, pronti ad aprirsi a nuovi contenitori della collettività sociale che siano in grado di fare proposte e soprattutto pronti ad ascoltare. Ecco questo è quello che ci immaginiamo come cammino dei prossimi mesi in vista delle prossime amministrative. Questo modello amministrativo autoreferenziale ha illuso e deluso. Come centrodestra ci sentiamo la responsabilità di lanciare una proposta. vogliamo che questa proposta parta da subito con uno sguardo ampio. Quindi noi ci rivolgiamo alla città e lanciamo una campagna di ascolto che non è un prendere appunti delle problematiche ma è un vero e proprio coinvolgimento, un vero e proprio confronto e una vera e propria coprogettazione. In questo momento intensificheremo questo lavoro che abbiamo già fatto come singoli, come partiti. Lo vogliamo fare come squadra di centrodestra, lo vogliamo fare raccontandolo e rendendolo capillare e sempre più efficace. Grazie. 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 Grazie.